Benvenuti, agenti. Siamo WISE, un'organizzazione internazionale indipendente di intelligence che opera al massimo livello di segretezza per proteggere il mondo da qualsiasi minaccia. Poche ore fa, la vostra città è stata presa di mira da un attacco informatico su larga scala. Di conseguenza, si è verificata un'interruzione massiccia dell'intera rete elettrica ed un vero e proprio blackout è imminente. Al momento, l'intera città funziona solo grazie all'energia di riserva. Per evitare il panico di massa, queste informazioni sono ancora completamente riservate e nessuno ne ha conoscenza, a parte noi. Negli ultimi mesi, la nostra organizzazione ha registrato diverse brevi interruzioni di corrente in varie località. Riteniamo che si sia trattato di testi in preparazione dell'operazione di hacking su larga scala. Per caso, ieri sera i nostri agenti hanno catturato un sabotatore in uno dei principali hub energetici della città. La persona in questione è un certo Carl Lehmann. Secondo le nostre informazioni, Lehmann è un hacker esperto che in passato ha lavorato per diversi gruppi criminali. Sfortunatamente Lehmann è riuscito a sfuggirci durante il trasferimento in una struttura sicura, ma ha perso una borsa con degli oggetti personali. Questa è la nostra unica pista. Se non fermiamo il blackout, tra poche ore praticamente tutto ciò che ha bisogno di elettricità non potrà più funzionare. Entro sette giorni ci sarà l'anarchia totale. Per fermare il blackout, abbiamo scelto voi come nostri agenti. Ecco la vostra missione. La rete elettrica della città è composta da diversi nodi. Trovate i nodi hackerati e riportateli sotto il nostro controllo. Da qualche parte in città deve esserci un generatore di emergenza segreto. Trovate questo generatore e ripristinate le energie elettriche in città. Crediamo che Lehmann non stia lavorando da solo. Chiunque stia muovendo i fili dietro di lui deve avere un potere enorme. Scoprite chi c'è dietro tutto questo. Vi rimane solo poco tempo prima che le riserve di energia si esauriscano ed inizi blackout. Per risparmiare tempo vi forniremo un supervisore esperto, l'agente Hunt. Inoltre vi abbiamo fornito il nostro action pack più avanzato con oggetti fondamentali per il successo della vostra missione. Per risolvere questa pericolosa missione abbiamo messo a vostra disposizione una nuovissima abilità speciale. Hacking. Usate quest'opzione per hackerare i potenziali avversari e metterli fuori gioco. Poiché la città è piena di agenti doppi che potrebbero volervi fermare, cercate di non dare nell'occhio e non fidatevi di nessuno. Siete pronti? Buona fortuna, ne avrete bisogno. Over and out.